questa volta la stella blu me la fotto io sempre per un colpo non muoiono sempre per un colpo dobbiamo perdere pure questa abbiamo perso pure questa è possibile andremo a spacchettare prima di tutto queste cose qua mappa molto strana di ricercati molto aperta attenzione attenzione andiamo a fare rapina però questa volta imprendono il personaggio e cazzo i personaggi di merda è ma non lo so io è scarsissimo sto cosa qua non chiedetemi perché l'abbia rifatto è stato uno sbaglio non l'ho fatto nemmeno apposta ora che alla fine alla fine non fa poco danno e questa volta il personaggio lo cambio però è 1 a 0 subito pizza ha segnato la pizza raga ma che cazzo fai ma che cazzo ma veramente sei rincoglionito proprio sei eh sì certo il mio personaggio spara il mio compagno piuttosto che i dei milti vabbè già capito in che squadra siamo mi sa ci mancano le star di duelli e ko chitarrista già sai dove diventare vero cazzo 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 è incredibile perché il chitarrista è quello che mi sta dando più fastidio non me l'aspettavo 26.000 coppe 300 monete mi aspettavo qualcosina in più allontaniamoci 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 accerchiamolo vabbè non fa niente dai dina minchia c'è dina minchia cazzo ci mancano solo due star incredibile due star dove le posso trovare due star oddio oddio siamo tutti uguali broc uccidi broc cazzo broc uccidi broc se non uccide broc ma che cazzo cazzo non ti capisce niente raga ma io non capisco una cosa perché non sono dello stesso colore dei miei compagni e sono del colore degli amici avversari perché broc mi ha ucciso broc uccidi broc l'ho ucciso io uccisi nemmeno se io so come vabbè addio questo evento io non lo faccio più vabbè a me manca una star qua ho messo di nuovo l'evento ricercati però sbagliati va bene non fateci caso evento specchie di stocca ma chi l'ha creata questa cosa qua